Questo è il primo consiglio comunale, è un consiglio di insegnamento, il Movimento 5 Stelle aspetterà la documentazione ufficiale e poi nelle sedi opportune, quindi nelle varie commissioni entreremo nel dettaglio di ogni momento e quindi cercheremo di capire quali sono le intenzioni del sindaco, della giunta e dei consiglieri di maggioranza. A tal proposito io voglio augurare a tutti loro un buon lavoro e gli auguro anche un successo perché il loro successo garantirà anche il nostro. Da parte del Movimento 5 Stelle aspettatevi un'opposizione seria, propositiva e costruttiva, come sempre abbiamo fatto, mai a prescindere perché qui lottiamo tutti per il bene di grossa trattata e quindi fare un'opposizione a prescindere è sciocco e noi non ce lo possiamo permettere visto la situazione in cui ci troviamo. Per quanto mi riguarda devo scappare e me ne scuso con tutti voi perché il lavoro purtroppo mi chiama all'ordine, quindi saluto tutti i cittadini di Grotta Ferrata e volgo l'opposizione anche per salutare coloro che hanno votato il Movimento 5 Stelle, saluto il sindaco, la giunta, i componenti di maggioranza e di miglianza e ci vedremo presto al prossimo consiglio. Scusatemi ancora, grazie.